Prego signore, potete accomodarvi, così cominciamo. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questo convegno che conclude la due giorni dedicata alla custodia del creato. Due giorni intensi che hanno visto ieri la produzione di disegni ispirati e dedicati al tema da parte dei desenuti della casa circondariale di Cassini, da parte dei ragazzi, dei bambini, degli asili e delle scuole elementari e sono esposti nel chiostro. Veramente poi consiglio di andare a vederli perché saranno molto toccanti. C'è stata la pregnazione, la consegna delle piante d'olivo alle parrocchie che il 23 ottobre poi ci sarà questa ulteriore prosecuzione presso tutte le parrocchie. Stamattina purtroppo il cammino programmato non si è potuto svolgere per le avverse condizioni atmosferiche, però c'è stata la Santa Messa celebrata da Don Antonio Lecce e oggi questo convegno. In premessa desidero ringraziare oltre che naturalmente tutti gli intervenuti, i relatori e sua eccellenza che come sempre è un fautore di queste giornate veramente dà lo stimolo, ci incoraggia e ci permette pure di realizzare questi momenti di incontro. Soprattutto voglio ringraziare tutti i volontari che si sono adoperati per la buona riuscita di questa giornata perché dietro le quinte come si può dire c'è un grandissimo lavoro. Quindi ci sono i volontari della Caritas, i volontari della parrocchia pure di San Donato e naturalmente guidati da Don Aguino che è il progetto Policoro che si è molto impegnato per realizzare questo momento. Ricordo che hanno collaborato anche la fondazione del Cammino guidata da Don Mimmo, il dottor Giuliano Fabri pure doveva appunto stamattina guidare il percorso che comunque verrà realizzato perché sentivo che prendeva accordi anche con il sindaco quindi non è stata un'occasione sprecata perché verrà recuperata quanto prima e prima di cominciare direi che pregherei, anzi il sindaco di Vicalvi, Mario Ferrera di poggere il saluto dell'amministrazione, un'amministrazione che si sta anche molto impegnando per la valorizzazione e anche il recupero del convento. Prego. Buonasera a tutti e grazie di aver scelto il comune di Vicalvi, il nostro comune per queste manifestazioni e per questo bellissimo evento. Io porto chiaramente il saluto a sua eccellenza di tutta la comunità, del comune di Vicalvi e che cosa dire, come diceva giustamente il professore, stiamo cercando come amministrazione di dare a questo luogo l'attenzione che merita perché probabilmente negli ultimi anni è stata un po' diciamo tralasciata, quindi stiamo cercando di fare eventi, di fare alcune attività ma sempre nel rispetto del culto e della cultura che questo luogo sicuramente merita. Adesso, ripeto, benvengano tutti questi eventi, benvengano tutte queste manifestazioni che sicuramente ci danno la possibilità anche a noi di essere spronati sempre di più a fare delle attività in questo senso. Ringrazio di nuovo tutti e buon proseguimento della manifestazione. Mi scuso ma devo purtroppo scappare perché è arrivata un'altra allerta media un quarto d'ora fa e devo cercare di andarla gestire. Grazie a tutti. Grazie, grazie al signor. Allora noi cerchiamo di accelerare, anche se per fortuna l'allerta insomma poi si è rivelata meno diciamo preoccupante di quello che si poteva immaginare. Sua eccellenza quindi ha il compito diciamo di introdurre questo dibattito o meglio questa testimonianza che poi condurranno il governatore a merito della Banca d'Italia, il dottor Antonio Fazio e il dottor Giulio De Rita che è un ricercatore Censis. Oggi nella Omeria, stamattina, richiamava proprio l'importanza e la testimonianza don Antonio e ha fatto anche una sorta di prologo al convegno di oggi parlando di finanza, parlando di economia, del rapporto tra fede, ragione e etica e quindi un po' ha dato il là per questo nostro incontro. Cosa dobbiamo dire? Ora il nostro vescovo che è così sensibile e attento ai temi dell'Oltrino Sociale della Chiesa appunto introduce questo nostro incontro e lo ringraziamo ancora moltissimo per la sua partecipazione. Grazie, grazie Francesco, grazie a tutti voi. Noi veniamo da alcuni eventi, alcuni drammatici, altri di grande spessore prospettico e profettico. L'ultimo drammatico è proprio questa alluvione delle Marche che proprio nella sua drammaticità ci mette dentro la questione della custodia del creato e quanto poi la custodia del creato significa fondamentalmente la custodia di sé, la nostra custodia, come coloro che sono stati chiamati da Dio a prendersi cura e non a depredare il creato nel quale siamo inseriti e del quale siamo costituiti responsabili. Altri eventi invece un po' più profetici e prospettici sono questo bellissimo evento che si ripete ad Assisi, Re Economi of Francesco, questi giovani da circa 100 nazioni del mondo che convergono ad Assisi per approfondire sempre meglio una prospettiva di economia, di finanza che sia a misura della persona umana, della sua dignità. Veniamo anche, però veniamo almeno dal progetto del legame spirituale, dal Congresso Eucaristico nazionale che si è concluso questa mattina con la celebrazione che ha visto la presenza del Santo Padre e il suo intervento e che riguardo al tema che la conferenza episcopale italiana ha scelto quest'anno per la giornata, per l'evento, gli eventi che in tutta Italia si sono un po' strutturati come sensibilizzazione riguardo e rispetto alla postura del creato e c'è questa confluenza voluta naturalmente anche di tematiche perché il tema della CEI si affratella immediatamente anche con il tema del Congresso Eucaristico nazionale. che trova al centro dell'attenzione proprio dell'evento del pane. La CEI ha dedicato la giornata al tema presi il pane e rese grazie, dal pane della nostra mensa al pane eucaristico e anche il Congresso Eucaristico nazionale come tema preso. e poi torniamo al gusto del pane, come una chiesa eucaristica e sinodale. Francesco, introducendo il nostro convegno, parlava della due giorni dedicata alla custodia del creato. Evidentemente è un lapsus non voluto, non sono soltanto due giorni, ma speriamo un po' di più da dedicare alla custodia del creato, per dire che la custodia del creato è una prospettiva che ci riguarda tutti e tutti i giorni, riguarda tutti e tutti i giorni dell'anno. perché se ciò che facciamo, anche come venti, non arriva e non mira a sensibilizzare, a creare questa portura del rispetto appunto della custodia, serve a bel poco. Permettetemi di introdurre un po' la nostra conversazione, poi lasciare la parola degli esperti un po' più specifici dal punto di vista della competenza sul tema che abbiamo da attenzionare, in una forma così di riflessione, quasi direi una meditazione, proprio sull'elemento, sul significato del pane. Direi proprio questo a tutti noi, ascoltiamo la voce del pane, perché il pane parla e dice molto. D'altra parte se Gesù l'ha scelto come elemento eucaristico, evidentemente da una parte l'elemento più semplice, ma dall'altra anche l'elemento più complesso, più completo. Ascoltiamo la voce del pane per ascoltare sia il canto della creazione che molto spesso oggi diventa invece di canto grido della creazione, secondo la riflessione teologicamente molto alta dell'Apostolo Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani. Questo grido, dice Paolo, diventa gemico, la creazione geme, anzi soffre come per le doglie di un parto, per una corruzione, una caducità a cui è stata sottomessa a causa del peccato, non per proprio volere, ma per volere dell'uomo. Ascoltiamo il grido del pane, il canto della creazione, ma anche attraverso il pane ascoltiamo, impariamo ad ascoltare la voce e il grido dei poveri. In un solo frammento, quello del pane, si concentra la voce unanime di tutto il cosmo. Guardate che il pane, questo elemento così semplice, anche umile, è davvero sintesi dell'intero creato. Custodire il pane significa custodire tutto il creato, che si concentra in questo elemento così importante nella vita dell'uomo. Il pane è a riferimento al creatore, all'uomo che lo lavora e al giardino, il creato, la casa comune che lo esprime. Il messaggio della conferenza episcopale caiana, proprio su questo tema, prese il pane, prese grazie, a un certo punto dice la creazione di Dio, il dinamismo della natura, il lavoro di tanta gente, chi semina, coltiva e raccoglie, chi predispone i sistemi di applicazione, chi estrae il sale, chi impasta e informa, chi distribuisce in quel frammento, c'è la terra. Diciamo la sintesi del creato. In tutte queste attività elaborate intorno all'elemento del pane, chiamate in causa, in modo convergente, sull'elemento del pane c'è tutta la terra, in un frammento tutta la terra, dice il messaggio della Shea. Nella celebrazione eucaristica noi diciamo, nel momento in cui presentiamo il pane e il vino, benedetto sei tu il Signore. Il pane è davvero frutto della terra e del lavoro dell'uomo e quindi questo dice già come il pane contiene in sé l'affanno, la fatica, anche la speranza dell'umanità. celebrando la messa nel momento della presentazione del pane e del vino, benediciamo il Signore invocandolo come il Dio dell'universo. Un'invocazione solenne, scriveva Alonso Schecher, questo grande biblista del Pontificio Istituto Biblico, una dichiarazione solenne quando noi proclamiamo Dio dell'universo, dice Schecher perché nell'umile ci si rivela il sublime. presentiamo il dono del pane che nella sua esiguità è compendio di molteplici, immensi doni. Ancora Alonso Schecher le scriveva in un testo breve, ma è una perda quel testo, abbiamo dato forma rotonda e colore bianco a questo pane, come per significare nella rotondità la totalità, la pienezza, la perfezione e nel colore bianco la sintesi di tutti i colori. in quanto frutto della terra il pane esprime il grazie dell'uomo all'intero universo, benedetto sei tu il Signore, nel pane è presente la terra, terra madre feconda che alimenta i suoi figli con la sua fertilità. Per milioni di anni Dio creatore l'ha preparata questa terra fertile perché fosse dimora veglia dei suoi figli, capace di spammare ogni creatura. Il pane è frutto non solo della terra con le sue forze fisiche, chimiche, con la sua silenziosa attività nascosta, ma anche della pioggia e dell'aria, del cielo e del sole. il pane è frutto della luce, catturata e concentrata all'interno del pane, mentre si riflette sulla sua superficie bianca, per esso la terra deve ruotare, avvicinandosi e allontanandosi in giusta misura dal sole inclinata nella sua orbita per dare alternanza esatta e ritmica alle stagioni, perché, come dice il profeta, Isaia dia da terra il seme al seminatore e il pane da mangiare, Isaia 55. Ascoltiamo dunque la voce del pane, come introducevo questa mia riflessione. Ascoltiamo la voce del pane perché nel frammento del pane era chiusa la voce, il grido di speranza, anche di dolore, del mondo. Il pane è elemento naturale e anche un elemento intrigante, capace di rivelare tutte le contraddizioni e le contrapposizioni sociali. Attraverso il pane ascoltiamo, dicevo, il grido anche sociale dei poveri. Pensiamo alla drammatica conseguenza della guerra del pane che si è scatenata provocata dalla guerra tra Russia e Ucraina, solo parzialmente risolto. il pane diventa uno strumento di ricatto, fino a minacciare la sopravvivenza anche di milioni di persone. Negare il pane è come costituire una forma di antigenesi dell'umano, è un'anticreazione l'annegazione del pane, un fallimento del creato, l'annegazione del pane. L'annegazione del pane tradisce il dovere etico della solidarietà, della giustizia sociale, della fraternità condivisa. Il linguaggio del pane parla delle molte ingiustizia, dei molti egoismi, getta luce sulle molte povertà, rimuove il vero dell'omertà e dei silenzi sulla miseria alla quale l'egoismo di voti condanna milioni di persone. L'ingordigia di chi ha pane e sazietà chiude il cuore a chi vive la precarietà della giornata e resta in attesa del pane condiviso. A mio parere il Vangelo che oggi abbiamo programmato nella liturgia è una grande lezione d'economia, al di là adesso, a volte di una lettura molto elementare, l'uomo ricco, il povero, poverino, poveraccio, è una lezione di economia. Andrebbe veramente approfondito. Lì dove c'è un'economia o una finanza iniqua e perversa dilaga la miseria, l'ingiustizia, la dignità di pochi genera il grido di milioni di persone. Gesù nel Vangelo ricorda a tutti noi, i poveri li avrete sempre con voi. È una denuncia. Se Gesù ci ha detto che i poveri li avremo sempre con noi, è perché ci sarà sempre gente che genera povertà. Non è un buon augurio. È una denuncia che Gesù ci ha fatto, no? I poveri li avrete sempre con voi. Purtroppo saremo sempre così cattivi da generare nuove povertà. L'avidità di pochi e la bramosia di alcuni non smetterà mai di escludere i più deboli e di creare appunto sempre nuove forme di povertà, non soltanto materiale. Perché? Così denuncia il profeta Isaia al capitolo 5. Perché? Ma anche il profeta Amos oggi nella prima lettura, tutto il testo di Amos è un grande trattato di giustizia sociale. Ma anche Isaia al capitolo 5 denuncia. Voi aggiungete casa a casa e unite campo a campo finché non vi sia più spazio. Nelle nostre case non abbiamo più spazio dove mettere le cose. Alluminiamo, aggiungiamo, arricchiamo, aumentiamo, compriamo, spendiamo. Aggiungete casa a casa. Il profeta Isaia parla circa 600 anni prima dell'asso del 2.600 anni fa. Come a dire, la situazione umana rimane sempre ferita dalla stessa colpevolezza, stessa responsabilità gestita male. Aggiungete casa a casa, unite campo a campo finché non vi sia più spazio e così restate soli ad abitare nella terra. La solitudine dell'ingordice. Ci aggrappiamo ai beni posseduti anche a quelli spirituali, chiudendoci spesso nelle nostre illusorie sicurezze. Dove il tuo tesoro la sarà anche il tuo cuore, dice Gesù. Il segno del pane porta con sé distanza dunque della gratitudine per ciò che si riceve come dono. Tutta l'impostazione della dottrina economica di Zamagni, per esempio, Francesco, è tutta impostata sulla gratuità nella logica dell'economia. Non significa dare cose gratis. Quella gratuità che è generata proprio da un senso di gratitudine per ciò che noi riceviamo è proprio un nome di quella gratitudine di cui dobbiamo sempre essere consapevoli. Diventiamo capaci anche di gratuità, cioè una felazione libera da interessi. Quella cultura dello scatto, come dice Papa Francesco, dall'accaparramento, dall'egoismo. Questa è la gratuità vera. Quella gratuità con cui si impara a condividere ogni bene. Perché i beni della terra hanno per loro natura propria, e questa è la dottrina sociale della Chiesa, questo è chiaro, i beni della terra per loro natura propria, non per quello che noi riconosciamo o non riconosciamo. Per una loro istanza proprio strutturale hanno una destinazione universale. I beni non hanno mai di per sé una destinazione per pochi. Nel loro significato naturale i beni sono tali perché hanno una destinazione universale. D'altra parte, se così non fosse, non sarebbe un bene. Diventerebbe tutta una proprietà. Il concetto di proprietà e quello di bene è molto diverso. Della propria proprietà si può fare un bene, ma del bene non si deve fare mai una proprietà. Non so, l'inversione è diabolica, no? E crea quelle sprecazioni, quelle diseguaglianze sociali che oggi sono purtroppo presenti ovunque. Il pane per sua natura è fatto per essere spezzato, dicevano la destinazione universale dei beni. Poi lo apprendiamo dall'elemento del pane. Il pane per sua natura è fatto per essere condiviso, per essere spezzato. Si è obbligato a spezzarlo, altrimenti da fuochi. Dal punto di vista fisico passo dal punto di vista metaforico, no? Mangiare da soli è contro natura. Perché quando noi sentiamo la compagnia degli altri, o ci diciamo il compagno di strada, la parola compagno dice proprio questo, no? Cum panis. Il pane con gli altri, non lo puoi mangiare da solo. Dal punto di vista, non dico semplicemente del manducare, ma del significato che diamo al valore del pane, che è un elemento di fraternità, di condivisione. Per sua natura propria il pane, dice questo messaggio profetico, provocatorio, allo stesso tempo. coloro che lo fanno condividono con il pane. L'esistenza, il tempo, la parola, l'incontro, lo sguardo, il volto, l'appartenenza. Capite quanto il pane è davvero provocatorio come condivisione, come metafora della partecipazione reciproca dell'esistenza di uno all'esistenza dell'altro, degli altri. Il pane merita di essere mangiato degnamente solo se diventa motivo di incontro con gli altri, non senza di loro. Credo che il tema che la scelta ci ha consegnato e anche l'affiancamento con lo svolgimento del congresso eucaristico ha davvero molto da insegnarci. Si parte di un elemento che è quotidiano, il pane è quotidiano, ma proprio per questo molto spesso anche, come dire, sottovalutato per chi ce n'ha molto. Domandiamo a chi non ce l'ha quanto importante l'elemento del pane. E al di là e oltre l'elemento materiale il pane diventa davvero sintesi di tutto il creato e espressione della nostra vera dignità umana nel condividerlo il più possibile, dove nel pane condividiamo la nostra vita con gli altri. Questo mi piaceva un po' condividere con voi, proprio per dare un tono, voglio dire, un po' anche unanimus a questo convegno che non è di natura tecnica soltanto, ma è proprio di valore antropologico. Cioè mettiamo in questione e mettiamo, come dire, in mano al nostro futuro la dignità dell'uomo, dell'umanità e per mettere di meditare anche il destino stesso, nella nostra condizione umana. Grazie. Grazie veramente al suo eccellenzo Ilvesco per questa apologia del pane, perché ha saputo, partendo appunto da un pane che è la cosa forse più umile, più naturale che abbiamo, trarre delle meditazioni di carattere oltre che teologico, economico, sociale, spirituale, che veramente sono sicuro che i nostri relatori avranno la possibilità di approfondire e di sviluppare. E allora con grande piacere do la parola al governatore Fazio, governatore che è orgoglio non solo della sociaria, ma dell'intera nazione, dell'intera Italia, perché è stato uno dei protagonisti istituzionali indiscursi della scena italiana ed europea. Quindi il fatto che qui oggi sia con noi, il fatto che comunque di Alvito rivendica lui sempre questa sua provenienza da Alvito, è sempre lui tornato a fine settimana da Alvito, quindi c'è un legame, una radice fortissima che lo lega alla Valcomino, alla Ciociaria, alla nostra terra e la sua presenza oggi è anche un omaggio a questo legame forte che c'è con il nostro territorio. E devo dire che lui affronterà soprattutto i temi della demografia e della economia legata appunto alla sostenibilità. Demografia che è un po' il suo primo amore perché nel campo accademico i primi passi lui proprio presso la cattedra di demografia li ha compiuti. Quindi grazie governatore e prego porti la sua testimonianza. Grazie. Non so se ho la voce ma piano piano si chiarirà la voce. Grazie di questo invito vi partecipo con piacere e quasi con entusiasmo, anzi con entusiasmo. Io poi torno alla Valle di Comino perché la Valle di Comino è bellissima, mi ha girato, ci andiamo nel vizio e mi ha detto ma dove andate state qua insomma, quando mi abbracciate la mattina, quando smonta il sole insomma, quando io vedo il primo sole che prende qui le colline diciamo sull'ovest penso al giardino al giardino del paradiso, si vede il sole che piano piano si illumina, illumina la collina su cui poi sta diciamo qui su occidente, stanno questi paesi, i caldi, gli altri, va bene, ogni mattina, in genere mi sveglio presto, alla mia età oramai mi sveglio, quando mi alzo tardi sono le sei, va bene, quindi vedo sempre, mi diverto a veder spuntare il sole, va bene. Devo, ricollegandomi al problema del pane, spero di non fare troppo però, devo recitare in latino due versi di un salvo graduale, è und esplorand, veniendes, veniend cum exultazione, portandes manipulos suos, è così scritto nelle vecchie tradizioni, è così scritto nella volgata fatta pubblicare da Giovanni Paolo, portano i loro manipoli, portano i manipoli i miei antitori, io me lo ricordo, i miei erano di origine, erano condadini, va bene, portano diventati piccoli proprietari e il mio padre che era geometra non andava mai in quegli anni, anni 40, cinque, non è che andasse, non è che prendesse le ferie, però quando c'era la metitura e poi la trebbiatura chiudevo lo studio e poi anche con la metitura non c'era nessuno, va bene, e andavamo, anche io giovani andavamo. Chissà perché i traduttori hanno detto che portano i loro covoni, ma il covone è dove si mette la cosa, va bene, non capisco perché nel latino, l'ho detto correttamente, portano i loro manipoli, va bene, arrivano io e i miei editori, uscevano la mattina, poi già verso le 10, le 11, diciamo, le donne portavano il cesto con una pima abbondante colazione, va bene, e poi continuavano. Chi traduce non ha mai visto la realtà, quindi non sa di che si era, traduce... Quindi è stato ricordato che mi riporto la pima, il latino, la pima abbondante, la tribbiatura, e questo è che la tribbiatura, così come la pima della mentemma, quindi un mondo legato all'agricoltura. E questa, diciamo, fondamentale realtà, io ricordo di averla vissuta, non personalmente, ma di averla vista vivere drammaticamente negli anni dell'occupazione. Io sono il 36, quindi nel 43, 44, ricordo la scarsezza del pane e senza far fare troppo comandicismo. Ricordo che noi a casa, siccome avevamo la terra, mia madre faceva ogni 15 giorni, faceva 10, 12 pagnotte di pane e io, il pane non mancava, il pane proprio mancavano altre cose. E ricordo che poi ci metteva qualcosa e uno dei miei compagni mi diceva, Tonino, mi fai dare un morso? Cioè, mi chiedeva di dare un morso, quindi veramente mi ricordo questo, mi ricordo quello del pane, l'importanza. Grazie eccellenza, io ho sentito stamattina il discorso di sua eminenza Zuppi, non ho fatto eserciare per tendere quello del Papa, che ha ripreso e lei ha sviluppato oggi questo, diciamo. Nel programma mi era stato assegnato, diciamo, l'ambiente, la demografia, l'economia. Ho pregato l'avvocato Rabotti, se possibile, troppe cose, mi voglio concentrare sulla demografia, che è il mio vecchio amore, ma brevemente, va bene, e poi sull'economia per parlare dell'attualità, forse non mi spiace, va bene, sull'ambiente non so se sei riuscito a distribuire quel testo, va bene. Sì, sì, in cartella, in cartella. Va bene, quindi mi ricordo che poi richiesto da un giornale, dal foglio, va bene, una certa amicizia, di scrivere, diciamo, un commento alla laudato sì. Il mio commento fondamentale è che questa è un'enciclica sociale, non è un'enciclica, diciamo, ci vedo questo concetto, diciamo, e credo che avrugarsi il conto, diciamo. Allora, questo testo lo vedrete, va bene, ve lo leggerete, va bene, ma parliamo della demografia, e qui poi magari mi lascio una piccola pubblicazione, poi vi dico, diciamo, che ho fatta in occasione, è una rielaborazione dell'intervento che avevo preparato per il congresso internazionale del cinquantesimo della Materet Magistra. Erano gli anni in cui ancora l'ONU era preoccupata del fatto che la popolazione del mondo, in quegli anni, in quei tempi, aveva raggiunto i 7 miliardi e ora sapete che siamo sugli 8 miliardi. Allora, e a questo punto, naturalmente, le citazioni a Malthus, a Malthusianesimo, all'area della Polizia. Allora io, che avevo studiato abbastanza questi problemi, mi disse, guardate, non c'è da preoccuparsi per l'eccesso di popolazione. Sicuramente in Europa, nei paesi sviluppati e anche quelli che si stanno aprendo lo sviluppo, il problema è contrario, il problema è un problema contrario, va bene? Allora, per far questo, vi leggerò alcuni dati, va bene? Leggerò, poi potete guardarvelo questo. spero che la Marietti, diciamo, pubblichi ancora questo, magari per proprio ordinarlo, diciamo. Questa è una copia che io mi sono trovato ancora, vabbè, per poter andare, va bene? E ci sono dei dati fondamentali. Allora, intanto diciamo, intanto diciamo qualche numero, verso la fine del Settecento, del Quattocento, un personaggio, un filosofo, diciamo, di grande valore dal punto di vista scientifico dell'economia, Thomas Malthus, amene, inglese, è ossessionato, aveva detto delle cose interessanti, dottore interessanti, sull'economia, riprese poi da Keynes, lo riprende, diciamo, uno dei migliori da me, però è impressionato dalla crescita della popolazione, poi se tengo qualità di capirete perché, diciamo, e quindi scopre, si scopre che la popolazione del mondo, stiamo entrando nel vivo del problema, cresce in quella che si chiama progressione geometrica, cioè sembra una percentuale di quella precedente. Per quanto il tasso sia piccolo, una gupa della progressione geometrica comincia a crescere lentamente, poi esplode, va bene? Lui lo compara con una crescita possibile delle risorse alimentari, a cominciare dal formento, dal pane, ma è impressionato, diciamo, perché è inglese, vive in un'isola, dice, su quest'isola siamo, tratteremo, e quindi formula quella sua, diciamo, che poi lo ha reso tristemente famoso, invece deve essere famoso per altre questioni, la necessità di limitare la popolazione. Ma è un ecclesiastico, si ha principi morali ben salti, e dice semplicemente, diciamo, limitare i matrimoni e i rapporti tra i cori, non penso assolutamente all'avorto, diciamo, a lungi da lui qualsiasi idea di questo. I suoi nipotini hanno sfruttato questo, commettendo anche degli errori dal punto di vista scientifico, adesso andiamo. Vi dico qualche dato, poi diciamo, volendo, puoi fare, l'avvocato che può fare, fotocopiare, fotocopiare alcune di queste tabelle, e diciamo, e si vede quello che io vi dico. Vi dico qualche dato, io sono abituato, diciamo, a parlare di economia e di problemi partendo dai dati, non solo dagli aggettivi, aggettivi aiutano, ma i dati sono precisi. La popolazione del mondo, qui non sono in grado, sono solo menzionati, nell'anno 1000 è presso a poco uguale a quella dell'anno 0 della nostra epoca, va bene, quindi c'è una crescita. Quello che è interessante in questo periodo, vedere, cominciamo a vedere, che tra il meno 200, meno 300, al più 300, 400, la popolazione in Europa e in Roma si sviluppa enormemente, rapidamente. Poi vengono le invasioni barbarie e lo sviluppo della popolazione romana cresce in parallelo esatto con la popolazione. La crisi del popolo, la crisi di Roma, comincia quando gli imperatori non sono più dei queridi, vengono dalla Spagna, vengono dall'estero, quando comincia a diminuire la popolazione. La crisi dell'impero romano è una crisi demografica, una crisi anche morale, chiarissima. Questo per esempio, in Bambani, che è un grande storico dell'economia, un importante politico, diciamo, la crisi di Roma è una crisi demografica. Prima di leggere i dati, per avere la stazionarietà della popolazione, capite questo concetto, da ogni donna in età fertile devono nascere due bambini, anzi, anche in media, anche due virgola qualcosa. Sapete che esiste una, lo sapete, diciamo, che esiste una legge biologica, nascono 53 bambini maschi per 50 femmine, tutti i sistemi, tutto il mondo. Sono un po' alterati dall'aborto, diciamo, che purtroppo in certe parti del mondo colpisce, diciamo, le donne, va bene, e c'è così il problema delle cosiddette missing women, mancano le donne perché le hanno aborti, va bene, l'aborto colpisce, va bene. Ma la mortalità dei maschi è un pochino superiore perché poi i maschi escono di famiglia, ma il maschio è il sesso debole, va bene, la donna è molto più forte dal punto di vista delle malattie, va bene, è molto più forte perché genera i bimbi, va bene, porta una vita, insomma. E la mortalità in maschile è più alta, va bene, così che verso l'età tra i 20 e i 25 anni, in una popolazione sana, il numero dei maschi è uguale al numero delle donne. È una legge naturale questa, non è una legge, diciamo, quindi è da cui la monogamia, va bene. Vediamo i dati, va bene. Nella popolazione del mondo, nel 1800, vediamo anche nel 1340, era di 450 milioni, nel 1800 si era circa raddoppiata, va bene, era circa raddoppiata, era circa un miliardo, va bene, va bene. La crescita della popolazione mediano in questo periodo è nettamente al di sotto dello 0,5% l'anno, va bene. Tra il 1800 e il 1900 la popolazione del mondo passa da un miliardo a un miliardo e sei, va bene, e comincia ad accelerare, aumenta al ritmo dello 0,7% l'anno, poi lo vedrete nella pantalla, va bene, quando va bene. La popolazione dell'Europa tra il 1800 e il 1900 raddoppia da 150 milioni, 300 milioni. Nei precedenti 60 anni era aumentata da 110 a 250, più che raddoppiata. Questo è il periodo in cui Malthus vede lo sviluppo della popolazione. Allora, per quanto la produzione alimentare nel bar e la produzione economica può crescere, alla fine la popolazione soppasserà, perché la popolazione è una curva, diciamo, crescente, va bene, siamo un'iperbole, mentre lo sviluppo dell'economia, se va bene, è una retta crescente. Quindi a un certo punto, questo concetto è fondamentale da partire, va bene, una curva che alla fine prima o poi passa, da cui diciamo, lui dice, ma cosa faremo in quest'isola, cioè proprio questo linguaggio. Ma tra il 1800 e il 1900, ho detto si raddoppia, tra il 1900 e il 2000, si quasi raddoppia un'altra volta in Europa, ma soprattutto a livello mondiale, tra un miliardo e 600 persone nel 1900, nel 2000 si giuce a 6 miliardi, da cui, diciamo, le grida, diciamo, in stelle, limitiamo la popolazione, ma che cosa è avvenuto? Nel momento in cui si sono diffusi, guardate, non gli antibiotici, sulfamidici, va bene, che abbassano fortemente la mortalità, la natalità continua, ma la natalità era forte anche in questi anni, ma morivano, c'era una fortissima mortalità in bambile, ma ce lo ricordiamo anche noi, va bene, e quindi la crescita della popolazione era tutta limitata perché rispetto al numero di natalità, a un certo punto, un fatto positivo, diciamo, si è diminuita sia la mortalità infantile e giovanile, ma sia anche la mortalità all'età adulta, va bene, e mentre nella popolazione europea, questi, l'Europa è una piccola parte del mondo, è una parte del mondo, diciamo, nell'anno 2000, gli abitanti dell'Europa, non dell'Europa politica, dell'Europa, diciamo, civile, dell'Europa, diciamo, geografia, sono 500 milioni, e nel mondo, compresa l'Europa, sono 6 miliardi, il resto del mondo sono 5 miliardi e mezzo, va bene, la, il, diciamo, il gran numero di scienziati, così, cominciano a dire, dobbiamo limitare la popolazione, va bene, e la limitazione della popolazione avviene attraverso un fatto culturale di cui poi, diciamo, per il quale adesso ci derò poi gli anni, diciamo, va bene, ecco, c'è un'altra tabella di dati, è una lezione questa, non è una conferenza, però, insomma, le cose bisogna farle così per prendere, sennò rimangono le impressioni, no, ci sono fatti, diciamo, precisi, il, il, ci allunga fortemente la vita, diciamo, la speranza di vita alla nascita, insomma, ma questo anche adesso, negli anni recenti, è un fatto positivo, insomma, e questo anche avrebbe dovuto avere delle conseguenze sociali, se avremo un momento di tempo accenerò, senza esagerare troppo nel tempo, se ci vede mai, insomma, però c'è anche un fatto di una diminuzione del numero delle nascite, che nasce, soprattutto in Europa, da problemi di carattere culturale, diciamo, soprattutto, sociale, culturale, non è vero che le donne, fino a un certo punto, le donne che lavorano non hanno figli, le donne non hanno la pena, perché di recente si è visto, di alcuni studi fatti da democrati della Cattolica di Milano, che l'occupazione femminile, invece, ingoraggia la natalità, entro certi limiti. Vediamo a questo problema, finiamo su questo, poi torniamo, come dire, nell'analisi un momento sull'andamento della CIN. Tra il 2000 e il 2050, le previsioni sulla popolazione si fanno con una certa sicurezza, si fanno molto meglio delle previsioni sull'economia, che io ho fatto per tanti anni, ma bene, l'ultimo, perché i problemi, la struttura demografica, parano molto lentamente. Secondo queste valutazioni, nel 2050, la popolazione del mondo, le stazioni dell'ONU, fanno un massimo, un minimo, un valore medio, secondo le valutazioni abbastanza attendibili, diciamo, dell'ONU, delle previsioni sull'economia, sarà di 9 miliardi e 300 milioni, a bene. Ma queste previsioni sono estese al 2100, ugualmente, con sufficiente stabilità, diciamo, e nel 2100 da 9 milioni, mentre tra il 2000 e il 2050 passiamo da 6 miliardi a 9 miliardi, tra il 2050 e il 2100 passiamo da 9 miliardi e 300 a 10 miliardi e se si guarda il tasso di aumento lo troverete, lo troverete qui adesso, mentre la valore assoluto cresce, si imbella fortemente, il tasso di aumento crolla e probabilmente nemmeno arriveremo a 10 miliardi e dopo 10 miliardi quasi certamente la popolazione comincia a scendere. ma c'è un altro fatto, già nel 1800 quando cominciano le preoccupazioni perché la popolazione cresce in misura eccessiva rispetto alla disponibilità di cimbo, di bane di cimbo e di un'economica sono smendite dai fatti. L'economia cresce di più perché cresce la popolazione. Cioè la popolazione a parte diciamo non so, le regioni sud-sahariane dove c'è un problema insomma dove c'è questo, ma a livello nazionale, a livello mondiale la popolazione con l'innovazione, con la crescita, con la tecnologia stimola l'economia più della popolazione diciamo la crescita, dove cresce la popolazione? C'è la produzione. La produzione cresce molto più rapidamente e questo è l'esempio del 1800 il tasso di sviluppo della produzione mondiale di beni quello che si chiama il prodotto l'ordo diciamo annuale è quasi doppio di quello della popolazione qui leggere i dati adesso non li cito non me li ricordo con esamenza ma insomma la conto 1,5 e 3% e questo nel secondo diciamo dopo guerra dagli anni 50 al 2000 c'è anche questo sviluppo enorme continua questo sviluppo enorme della popolazione ma la ricchezza è crescita molto di più pensate alla Cina l'India che ha una crescita della popolazione fortissima e tra pochi tra i dieci anni sarà una delle più grandi potenze mondiali la Cina è così diciamo da poverissima questa crescita gli Stati Uniti diciamo con l'immigrazione qui non c'è tempo di tocare grazie a un utilizzo diciamo dell'incendio alla fine dell'immigrazione nonostante gli episodi diciamo dei muri delle cose cresce grazie alla crescita della popolazione ma guardate i nostri centri se si ferma la crescita della popolazione tutto si arresta tutto si impoverisce quindi la reazione diciamo c'è piuttosto da preoccuparsi di questo rallentamento della popolazione nella seconda metà diciamo se è oltre certi limiti si rallenterà da sé quando diciamo questo fenomeno si chiama una cosiddetta curva logistica questo giorno da questi tassi di aumento a questi picchi crollerà diciamo verso quindi diciamo questa ma vediamo diciamo con più precisione a cosa avviene nella popolazione dei vari paesi e nell'Italia in particolare vediamo un'altra tabella vediamo questo discorso è scritto con il linguaggio un po' scientifico ma vedo che sia ho detto che se da una donna in età seconda diciamo non nascono 2 2,1 bambini in media la popolazione diminuisce allora in Belgio riguarda i primi anni le donne cambiano poco diciamo nel Belgio in media dove c'è molta immigrazione va bene quindi la popolazione è sostenuta molto da questo in media nascono dalle donne nascevano di amici 1,6 bambini quindi nascono 0,8 maschi e 0,8 ma non basta la popolazione se non c'è l'immigrazione tenderà a ridursi in Austria 1,4 in Bulgaria nei paesi ex comunisti bassissimi insieme in Germania 1,4 Germania diciamo sta valorizzando molto per le sue industrie di immigrati non riuscirebbe diciamo a far fonte alle necessità di lavorare in Italia il rapporto è come in Germania 1,4 in Irlanda quando il tema interessante è 2 quindi grande l'equilibrio la Francia che ha fatto le poesie accorte sono dei maggiori demografici anche in Italia è una scuola di demografia che si è sviluppata a Roma negli anni torno alla metà dello scorso secolo ma in Francia la scuola di demografia si è già sviluppata agli inizi del novecento si è già sviluppata perché c'è stata una fortissima motivi culturali diciamo morale era bene è stato un fortissimo abbassamento delle nascite la Francia ha reagito con una politica di sostegno alle famiglie tra le più avanzate del mondo dovremmo guardare dico subito che in Italia in Europa come anche ho ricordato qui il sostegno alle famiglie è il più basso fra tutti i stati dell'Unione Europea per essere cattolico ma non è stato capace non è stato in Francia con questo sostegno alle famiglie politiche familiari quale adesso non sto a entrare ma insomma se qualcuno di voi mia moglie è nata in Francia va bene ha scelto tre cittadini la francesca e la italiana ha scelto ogni tanto quando si ne perde diceva io di loro va bene dovevo rimanere in Francia poi è contenta di stare abbiamo cinque figli va bene senza fare la politica l'1-1-1 oggi si è presentata alle elezioni questo spiega anche il mio ritardo va bene va bene l'unica non sposata in Francia il tasso la media per donna diciamo è 1,9 quindi è quasi 2 va bene in media nell'Europa diciamo siamo a valori estremamente bassi tra l'1,3 e l'1,6 allora se la nasce la presenza in Italia 1,3 significa che in media da ogni donna nascono 0,6 donne perché sono 0,65 va bene 1,3 e tra queste nasceranno tra 6 tra due generazioni la popolazione italiana si sarà dimensata se non si inverte questa tendenza se ci sarà l'immigrazione questa la sostiene va bene però è anche vero che gli immigrati anche loro a parte altre difficoltà se non sono integrati o anche se sono integrati qualche volta prendono le abitudini della popolazione quindi andiamo verso un'eutanasia diciamo va bene della popolazione negli Stati più avanzati va bene negli Stati Uniti va bene adesso vado fuori dall'Europa va bene il tasso di fertilità è di 2,1 cioè negli Stati Uniti la crescita della popolazione diciamo la natalità sostiene non fa diminuire la popolazione se poi andiamo nell'America Latina andiamo oltre 2 va bene se andiamo negli Stati diciamo Nigeria e andiamo troviamo 4-5% qui abbiamo il problema diciamo contrario dell'immediato una organizzazione nei sistemi di assistenza di aiuto diciamo pesano pochissimo insomma se ci fosse diciamo un sistema previdenziale mondiale più attento diciamo a questi problemi perché questi sono una piccolissima parte della popolazione del mondo il discorso quindi è in Italia diciamo se non c'è un'immersione di tendenza ma questo è molto però la Francia in 20-30 anni era riuscita a dare l'animazione di tendenza e dobbiamo integrare gli immigrati non li dobbiamo solo accogliere manca una politica insomma manca a livello europeo questa è materia prima che arriva in Europa e non viene la mano viene disprezzata gli Stati Uniti va bene chiunque è stato per un po' di tempo negli Stati Uniti sa benissimo che sono polacchi francesi italiani irlandesi va bene però la popolazione sono tutti integrati nel sistema e il sistema cresce e cresce va bene anche lì poi ci sono discussioni diciamo cambiamenti quindi c'è un problema che ora oramai è arrivato anche come dire sulla stampa di povertà di mancanza di sviluppo della popolazione ma gli immigrati sono materia prima se riuscissimo a livello europeo va bene ah veramente dal punto di vista storico le migrazioni anche quelle per motivare alla fine sono state fonte di sviluppo in tutto diciamo la storia quindi trattiamo veramente è un errore proprio di brevità di cortezza di visione corta sembriamo che siano a mangiare ma insomma se riusciamo a estruirli in qualche modo a integrarli adesso non voglio entrare nella discussione io su scuola io su amene questo amene ma se riusciamo ad avere soprattutto è chiaro che l'Italia siccome sta vicino all'Africa ed è piena di coste poi accoglie diciamo ma questo è materiale è materiale umano oggi economisti concordano sul fatto che il principale fattore di sviluppo è quello che si chiama il capitale umano che è l'uomo istruito è l'uomo in grado diciamo di fornire da tutti i punti di vista con il suo lavoro come indeso nella nostra costituzione qualsiasi attività diciamo morale intellettuale ma materiale diciamo fisica e il fattore primo è l'uomo nella crescita non è il capitale i soldi va bene la finanza si mette in moto si valorizza se ci sono gli uomini che lavorano dipende dall'uomo e dipende dal suo grado di capacità di sviluppo negli Stati Uniti se si misura la ricchezza nazionale si vede che il 90% della ricchezza è il capitale umano cioè la capacità degli uomini di produrre cose non è il capitale fisico quindi è veramente importante mi pare di recente è uscita qualche cosa costruire lo sviluppo noi abbiamo la materia prima però non la non la lavoriamo insomma adesso usando diciamo un dal punto di vista dell'Europa stanno a fare stanno a vedere le percentuali le cose insomma se vuoi ti faccio poche parole sull'Europa quindi in sostanza questa signora che è intervenuta un po' meglio di quella del passato anche se insomma parla a me ma insomma di una pochezza di vedute diciamo adesso in capacità di progettare insomma il futuro secondo seguito torniamoci qui con la democrazia l'economia quindi va bene che ci aspetta questo libretto te lo lascio sì 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 grazie ne ho un'altra cosa no no però io ce lo so provo a seguire costava non mi ricordo 10 euro distribuisce va bene è uno un fatto per grazie della società come si chiama quella dello sviluppo che può andare a Giovanni Paolo insomma dentro della comunicazione o di un giorno che c'è Paolo VI va bene fa bene quell'altra diciamo questa competenza l'economia allora che ci aspetta parlo 10 minuti e poi il tempo va bene ma è anche l'economia e Donno agli anni dice sapete che negli anni 40 50 come reazione diciamo alla seconda conflitto mondiale uomini di grandi missioni Schumann va bene le Gasper in Italia va bene hanno l'idea dell'unione europea va bene e nel trattato di Roma si comincia con la comunità del carbone e dell'acciaio il trattato è l'unione della diciamo dei paesi dell'Europa si comincia con i sei diciamo Francia Germania Italia e il Benelux che Belgio Nederlanda Olanda e l'Ossemburgo con i sei paesi l'obiettivo dell'unione economica europea del mercato quello che prima si chiama mercato comune è lo sviluppo economico ma lo sviluppo economico è basato sulla attività dei singoli stati ogni stato fa la sua politica economica la politica economica viene coordinata nell'idea dei fondatori della comunità dei padri fondatori dalla commissione poi poi l'ordano supremo rimane quello dei capi di stato e di governo ma il governo dell'Europa deve essere la commissione nel corso degli anni 70 80 c'è un fenomeno poi vi lascio qualche pubblicazione che potete diciamo va bene della cosiddetta globalizzazione finanziaria che parte dagli stati uniti dalla forza del tollago non faccio qui la cosa poi la pubblicazione troverete anche un po' questa storia e quindi subentra l'idea della globalizzazione finanziaria e che fa un po' fa cadere un po' in ombra l'idea dell'Europa mi permetto di raccontare un episodio diciamo ricordo il giorno della Santa Croce che è il 14 settembre 1981 stavamo una trentina di uomini di cultura chiamo così con vari premi Nobel a pranzo da Giovanni Paolo II a quella la sua residenza a Castelgandolfo il Papa era diciamo si era ripreso dall'attentato del maggio e lui ascoltava credo che stesse preparando una enciclica non ricordo quale gli piaceva di ascoltare l'organizzatore di questo era Franz Koenig va bene è molto libero che parlava l'italiano benissimo va bene parlava diciamo eravamo un gruppo io ero con un gruppo di economista allora ero capo del servizio studi della l'organizzata va bene con un gruppo di economista di cui due o tre premi Nobel che io conoscevo l'ho conosciuto l'ho invitato ma c'erano diciamo tra i fisici chimici va bene sì un mio collega diciamo banchiere era l'amministratore delegato del credito italiano che avevamo invitato a portare la sua esperienza ognuno parlava dopo pranzo va bene c'era non si andavano tutti in una stanza stavamo quindici in una stanza con il santo padre va bene e altri quindici in un'altra stanza poi c'era Kennedy che presedeva dopo pranzo i quindici nell'altra stanza ci alziamo e andavamo nella stanza dove parlava e il papa sentiva semplicemente le impressioni sul mondo su che cosa stava venendo sul mondo sulle prospettive degli uomini di cultura insomma era questo va bene parlò da questo banchiere e dice sanità cattolico di grande valore da buon governatore posso dire un uomo di eccezionale valore anche pratico concreto era stato in Cina e la Cina stava emergendo va bene cioè la Cina non era ancora va bene ma questo aveva capito che la Cina si era emiata per una via di sviluppo e la popolazione cresceva così forte che aveva in posto un'unica persona questo qua va bene e disse santità e disse poche parole sulla Cina e aggiunge una frase peccato che questi non sono parte del regno di Dio del regno di Cristo Giovanni Paolo non lo sappiamo e poi mi ricordo era il giorno del 14 settembre il giorno della Santa Grecia dell'Ottore era gli anni in cui cominciano a svilupparsi e quello che è avvenuto per la Cina sta avvenendo ora per l'India va bene mentre nell'America Latina continuano ad esserci un sacco di confusione globalizzazione sono gli anni della globalizzazione la Cina approfitta e l'India approfittano della globalizzazione per crescere e hanno una crescita democratica e una crescita economica che è spaventosa in Europa dice ma noi che facciamo allora cominciano culturali ricordo che venivo io ero poi me lo cavo al servizio studio di attore della ricerca venivano questi funzionari di Bruxelles e dicevano dottore ma lei che cosa pensa che cosa possiamo fare eccetera va bene nasce in quel momento come tentativo di dare di nuovo importanza all'Europa l'idea della moneta comune adesso arriviamo questa idea della moneta comune innamora di questo si innamorano i politici i quali non sempre capiscono bene diciamo l'essenza della moneta poi dirò qualcosa la moneta è una cosa che i governatori hanno sulla pelle va bene proprio quando va bene sono immenesimati se non parlano di questo e nasce questa idea tutti si innamorano e io ricordo che dicevo attenzione la moneta comune è il tetto che si mette quando la casa è costruita insomma mi ricordo questo anche scalfa qui insomma attenzione qui rischiamo di fare il tetto con ancora la casa insomma in corso di costruzione per farla breve diciamo i partiti e le politiche diciamo così ci sono tutte c'è tanto e dopo allora i politici si riprendono come dire affidando la loro sorte le loro capacità politiche alla moneta comune e adesso attenzione qui non c'è la vera bene il trattato di Roma diciamo del mille filmato filmato nel 1957 non aveva l'idea della moneta comune aveva l'idea diciamo di una politica fatta ognuna da ogni stato in funzione della crescita la cosiddetta sussidiarietà che poi è ripresa da più un decimo andare da sussidiarietà va bene insomma nascono dei governi democristiani anche di persone che io ho conosciuto personalmente Andreotti Colombo diciamo in Banca d'Italia a Barfi che era succeduto a Carli diceva questo non va molto bene insomma c'è qualcosa che non funziona e io stesso fui critico disbandonato che qui non c'è la moneta la moneta unica diciamo a livello scientifico richiede che ci sia una uniformità economica da base che se no non funziona insomma non può funzionare l'idea della moneta comune sapete nel corso degli anni 90 si arriva a un trattato quello di Maastricht Maastricht è il traghetto sulla mosa Maastricht va bene maastricht va bene però c'è anche una cattiva diciamo fama era un po' nel cinquecento seicento era uno dei più grandi mercati degli stati va bene maastricht in 90 va bene però diciamo l'origine è romana l'invasione va bene il trattato di Maastricht è scritto bene però a un certo punto i tedeschi ingenuano impilano una clausola che si chiama patto di stabilità poi silenziano un momento io l'ho vissuto con i miei colleghi a me patto di stabilità e crescita e dicono gli stati devono avere un debito pubblico non più del 60% del PIL e devono avere un rapporto dal deficit del prodotto e del deficit di non più del 3% sono i tedeschi i tedeschi avevano vissuto la grande implazione degli anni venti l'implazione di Weimar sapete volevo contato di portare il libro ma lo faremo un altro che ho scritto su grande implazione tedesca sapete che tra il 1938 39 e il 1948 49 quello che costava una lira nel 1938 39 nel 1948 49 dopo 10 anni costava circa 50 lire 48 lire 50 volte diciamo poi diciamo ricordo che il mio fratello più anziano non c'è più diciamo aveva vinto il concorso nel catastro va bene prendeva 800 lire al mese 600 e nel 46 47 quando dopo la guerra prendeva 30 milioni al mese va bene 50 volte più o meno insomma va bene in Germania dopo aver perso la guerra come va bene tra il 1913-14 e il 1923 la moneta si sviluppa non di 50 volte ma di mille miliardi di volte è il famoso diciamo periodo vero nel quale a parte che si sedevano al bar e il prezzo del caffè era radioppiato quando si alzava ma andavano a riscuotere allora non c'erano gli assegni andavano a riscuotere ovvero i stipendi col col caretto nel 23 22 23 diciamo chi ha fatto la collezione di frangobolli sai che c'erano di frangobolli un milione di marchi va bene quando a un certo punto non riuscirono più a stampare i frangobolli appiccicavano sulle lettere va bene le 22 23 attaccavano diciamo la attaccavano la banconota va bene sono cose vere insomma non sono va bene questo diciamo finisce con una grande azione diciamo adesso non so di alluvare nasce la cosiddetta repubblica di Weimar con la crisi del 29 la grande crisi mondiale i tedeschi anziché fare una politica di rilancio fanno una politica pensano la crisi porta a un rallentamento a una forte diminuzione dell'attività economica e di conseguenza passando sulle imposte aumenta il disavanzo pubblico mentre la spesa continua a crescere anzi con la disoccupazione cresce di più si interpreta a livello economico diciamo come se la deflazione la corte graduta fosse dovuta all'aumento del disavanzo pubblico quello che c'è esattamente il contrario negli anni 30 dopo la grande crisi i tedeschi fanno una politica di ulteriore restrizione del 29-30 c'è un famoso interato cancelliere cancelliere della fame che era poi del centro del centro cattolico dello zenzimo va bene il quale fa delle politiche come nella crisi finiscono si consegnano a Hitler però si consegnano a Hitler perché Hitler garantisce il controllo dei sindacati e garantirà l'inflazione che non c'era ma per l'inflazione i tedeschi scrivono c'hanno nella loro costituzione che non ci deve essere inflazione che non ci deve essere insomma sono veramente irricidi diciamo c'hanno purtroppo adesso subendo quello che sta succedendo comunque si fanno diciamo le anali per l'entrata nell'euro io caro governatore disguardate che noi non siamo pronti non faccio entrano fuori dico a Ciampi con cui avevo un ottimo rapporto è stata a mio caso un'amicizia insomma anche diciamo ceduto a lui ma insomma anche un rapporto di amicizia si capisce dice guarda noi non ci abbiamo le condizioni non possiamo stare eh tra lui Antonio ci fanno entrare lo stesso ma come ci fanno entrare noi non abbiamo le condizioni era un sospetto ci fanno entrare lo stesso va bene la notte la notte dell'annunciazione il 25 marzo del 97 si deve decidere nella banca quella che poi si chiama banca centrale europea non termine proprio perché è l'unione diciamo va bene comunque che si fa franco forte di cui tutti i governatori sono membri del consiglio si devono esaminare le carte per vedere quali paesi che hanno aderito all'unione sono in grado possono entrare nell'euro hanno le due a bene eravamo 15 paesi tre dicono subito noi l'Inghilterra dice io non ho nessuna intenzione per ora di entrare nell'euro rimango nell'europa ma non entro nell'euro stiamo entrando nell'attualità sia pure un pochino come compresso la Svezia e la Danimarca dicono non entriamo subito lasciateci entrare subito la Grecia dice io non posso entrare quest'anno e l'anno prossimo rimangono 11 paesi dei 15 3 escono la Grecia dice e si comincia in un primo esame di questi 15 paesi poi che poi saranno da cui già che poi si riterranno ad 11 solo 3 o 4 hanno i requisiti va bene ce l'ha la Germania l'Olanda e l'Austria mi pare e l'Usemburgo ma insomma non si è poco non è che la Germania fanno una serie di unioni riducono tutti diciamo questi parametri che stanno a rispettare diciamo li addolciscono di che stiamo andando verso quella direzione una cosa però insomma per il Belgio e per l'Italia non c'è niente da fare i paesi che hanno questo documento questo esame dei governatori e preliminare poi alla decisione dei capi di state e di governo che decideranno chi farà parte è una premessa scientifica tecnica va bene si sviluppa un'ampia discussione il Belgio poi c'è Austria va bene poi il Belgio non in alfabetico va bene il Belgio aveva un rapporto tra debito pubblico e altri parametri e prodotto in danno l'oro del 100% fuori lunga discussione ma come si fa a restare fuori dalla moneta comune il Belgio la cui capitale Bruxelles se ne risiede la commissione europea vabbè in un momento si trovano le formule per dire che il Belgio passa a Eraman passa Italy i miei colleghi governatori con i quali ci vedevamo poi per vari anni ogni 15 giorni eccetto agosto quando parlavamo facevamo le riunioni via telefono perché ci vedevamo 22 volte l'anno a Francoforte sanno benissimo che il sottoscritto diceva che l'Italia non doveva entrare nell'euro e presentano questo rapporto ma in danno i governanti italiani a mia insaputa è l'unica cosa che devo dire erano rientrati nel cosiddetto sistema monetario europeo va bene come premessa non mi avevano consultato la posizione diciamo la situazione giuridica di una moneta nazionale è un compito rispetto al Parlamento e al Governo la Banca Centrale lo deve solo amministrare mi fanno questo scherzo va bene prima qualche anno per entrare amministro la moneta faccio una politica che stronca l'inflazione che riduce da 800-900 il cosiddetto divario a 200 in poco va bene salvo la Fiat va bene però poi dico guarda noi abbiamo un debito pubblico insomma non ci ammettono e mi ripetono i politici ma vedrai che ci ammettono lo stesso i governatori dicono no io erano tranquilli perché sapevano la mia posizione è un documento va bene il sottoscritto dice mi dispiace ma io non posso firmare questo documento Antonio che era Giancola che dici va bene come fai io non posso firmare questo documento direi che lo trovo perché se domani questo documento verrà pubblicato reso pubblico e poi fra sei mesi andrà ai capi di stato e di governo insomma era discorso va bene domani salta la lira sul mercato dei campi perché la lira stava sul mercato dei campi perché c'erano illusi avevano illusi mercato e l'Italia doveva entrare nell'euro va bene non solo dico io ma guardate che quasi certamente salta tu puoi saltare tutto perché vedrete che salta il franco salta il mar mio grande amico diciamo governatore francese Jean-Claude Triche dice Antonio sei un traditore ti stai tradendo se no guardate vi sto facendo un'analisi economica guardate che se domani in questo documento si dice che l'Italia che aveva assicurato a tutti che doveva entrare nell'euro viene esclusa e purtroppo mentre se il documento dice che una cosa è possibile poi i campi di stato di governo non l'approvano ma se i tecnici dicono che una cosa non è possibile non c'è poco da fare insomma i campi di stato possono negare un'ammissione a uno stato che tecnicamente è passato ma non in più non c'è il problema racconto un po' per alleggerire il presidente mi dice Antonio ci non ma lo tira bene dobbiamo cenare perché le persone con Giano le 7 di sera andavano se necessario fino a mezzanotte e il giorno dopo erano le regioni ristrette solo dei governatori davvero con un po' lavoratori e poi diciamo il giorno diventavano pubbili erano anche si fidano ci rimavano i documenti si guardate andiamo a cena va bene per piacere Antonio si è di di fra chan-glote e hans chan-glote era il presidente francese altro detto Mario era il presidente tedesco chan-gono dice guarda io non posso filmare però vi avverto che se in Italia non è ma non è 30 lo so che sono per droga però non posso far saltare la dira domani ma guardate che se salta la dira saltate anche loro in quasi certamente va bene l'Italia viene ammessa con un giro di parole insomma può essere interpretato va bene esce questo documento cian-mi mi chiava io ero in una riunione che mi sto detto sotto fatto anche per lui perché era lui io credevo che credevo che stesse sbagliato ma insomma c'era un rapporto di realtà istituzionale anche personale lui mi disse ma ci hanno ammesso o ci hanno boggiati perché non si capiva guarda ci hanno ammesso con riserva va bene va bene insomma è stato così andai in Parlamento fu inconvogato ah bene bravo sappiamo che sei stato tu che hai fatto ammettere l'Italia ma perché eri contrario e io disse guardate e lui vedrei in Parlamento sai un termine così dunque consigli eravamo metà cattolici e metà protestanti perché Antitmair è cattolico cresce cattolico l'irlandese è cattolico io pare che fossi cattolico e poi un po' erano protestanti va bene e quindi in una discussione precedente Antitmair questo tedesco parlava sempre lo dico in italiano per non l'ambiente i miei concittadini ti pensano che l'euro sia il paradiso loro avevano questo che aveva fatto così ti ha provato il paradiso l'euro non è il paradiso zitto ha detto Hans è il purgatorio la ragione Antonio è un purgatorio io ripeto questo il parlamento di fronte alle due commissioni del senato e della camera mi si guardate che a livello tecnico io mi si guardate si è detto che esce sul giornale va bene ci fa la mattina la riunione il governatore ha detto che l'euro sarà un purgatorio mi si guardate mi si guardate io diciamo va bene questo pesce sorriso era tanto diciamo il bravo perché era il ministro del tesoro inglese lo raccontava a tutti ma a parte che oggi il governatore che è il seuro oggi l'euro era un purgatorio ora è diventato paradiso è passato all'inferno come non è un purgatorio ci salveremo però ci arrivo piano piano è bene arrivare a questo è bene che non è un'unico che è un'unico antilante questa definizione chiedo scusa di riprendere qualche tempo ma c'è un'unico di finisca nella vicina di potere tenere presente che avevamo nel passato i cosiddetti terremoti valutari adesso con l'euro non avremo più i terremoti valutari però sapete che arriva un bradisismo economico sapete che è un bradisismo è il terreno che si abbassa lentamente come a Pozzuoli va bene mi telefono il sindaco di Pozzuoli un po' addolore ma io lo assicuro gli dico dopo sapendo questo che l'hanno detto al Parlamento dopo questo però dico no si non hanno parlato male di Pozzuoli mi ricordo che a Pozzuoli è il parcato San Paolo mi ricordo benissimo la cosa guardi devo fare una conferenza spiegherò che volevo solo riferire diciamo io ho fatto geometra anche per tanti anni e quindi so che sei un terremoto so che sei un bradisismo so queste cose insomma va bene va bene purtroppo questo bradisismo abbiamo soltanto la Grecia che va peggio di noi dico alcuni dati poi questa tabella non te la posso dare te ne lascio invece un altro bellissimo tra il 1200 tra il 2005 e il 2019 gli Stati Uniti passando attraverso la grande crisi del 2006 e 2007 sono cresciuti del 28% 29% in media dell'1,6% l'anno non me li posso per divulgare e di fabbricare però dicevo va bene la sua la Germania tra il 2005 e il 2019 è cresciuta del 5,6% in media 0,4% l'anno l'Italia tra il 2005 e il 2019 è diminuita del 16% l'anno vi lascio questo grafico questo grafico è stato pubblicato dal economic report of the president e fa vedere tra il 2007 e il 2016 poi si ferma ma io ho dato dati oltre l'economia degli Stati Uniti sale l'economia della Francia la Germania sale un po' meno degli Stati Uniti l'economia francese l'economia di quattro paesi che si chiamano i pibis i pibis in inglese vuol dire maiali sono Portugal Italy Ireland e Spain il Portogallo l'Italia l'Irlanda non abbiamo ancora recuperato la grande crisi la grande recessione del 2007 guardate che questi dati che pubblicano non sono però poi sentite la povertà la cosa noi stiamo del 4% ancora sotto il livello del 2007 questa è la situazione drammatica in cui si ricorda che una volta a sola io le disse guardate non siamo usciti dalla crisi facciamo un ritorno purtroppo va bene non può spiegare perché diciamo però guardate che noi non abbiamo la produttività del lavoro nell'industria e i tedeschi ci hanno fatto uscire perché ci dovevano vendere l'automobile lo dico così in maniera un pochino ci hanno inontato va bene i tedeschi costringendo tutti i strati ad avere tutti gli stati ad avere il cambio del marco perché questo significa non potendo svalutare hanno riempito l'Europa dei loro prodotti e hanno accumulato un'ammondare enorme di crediti sull'estero che non investono e creano deflazione adesso però alla deflazione arrivata dall'estero si è giunta l'inflazione l'inflazione dell'8-9% che non avevamo visto se questo era in mano al signor Tittmeier al signor Trichet a me a livello europeo queste cose non si riescono a controllare perché le economie sono diverse quindi c'è un problema serio vi lascio questo grafico va bene non l'ho pubblicato però il grafico è ripreso dalla economica che porto al presidente non vi lascio questi perché li devo sì vi lascio invece uno scritto che è una spiegazione del libro che ho pubblicato sulla grande inflazione tedesca vi dico subito che in questo libro mi chiamo Antonio Lucia F Fazio non Antonio Fazio perché questo è il mio nome di battesimo bene grazie grazie governatore non è né Francesco né fortunato ma non l'ho voluto grazie 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 che ci lascia una forte preoccupazione una forte preoccupazione speriamo di riuscire a farcele questo questo scritto troverete qualche idea per uscire benissimo speriamo e quindi quando queste cose che c'erano delle politiche per far mandare l'occupazione chiedo scusa sono chiacchierona va bene sono sono indicate sono indicate sono indicate va bene questo questo ve lo date ve lo do diciamo sono indicate accennate accennate va bene mi si guardate se fate questa politica probabilmente avremo va bene perfetto ce la faremo aumentò subito l'occupazione di due carabinieri per la scorta basta grazie un piccolo risultato immediato bene grazie ora passiamo all'intervento del dottor Giulio De Rete che è un ricercatore del Censis ma è un costruttore di reti e ha questa grande capacità quindi da questo punto di vista di semplare e possiamo tornare ai temi diciamo che riguardano più propriamente l'ecologia integrale si mette a qua perché io mi metto un po' dietro perché le ho lecrisime a casa mi si mette a qua se lo faccio se sto un po' dietro perché è possibile lavorare dietro grazie 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 ma tanto questo questo è certo questo è pubblicato visto che siamo anche ci sono l'altro il naso è bellissimo e no parliamo scusate volevo dire questo parliamo dell'ecologia integrale partendo da da alcuni dati il trattato di chioto del 1996 nel 2010 doveva trovare attuazione e siamo andati avanti poi c'è stata la coppia 21 la coppia 21 grazie la coppia 21 del 2015 e oggi siamo al 2050 seppur con l'allarme termine del 2030 cioè quando parliamo di tutela dell'ambiente slittano sempre i termini che è un fatto culturale è una incapacità che abbiamo una cattiva volontà ecco perché servono questi questi momenti anche di sensibilizzazione quindi ci appelliamo alla capacità diciamo allo studio di ricerca che è proprio del dottor De Rita per trovare delle risposte buongiorno forse dopo giù di sentazioni così totte ci sarebbe venuto mio padre qui per rimanere a livello purtroppo ci sono io lui novantenne si sposta con fatica poi tra l'altro è mezzo sociale perché i suoi genitori no è sociale i suoi genitori venivano da Ponte Corvo quindi è della zona sarebbe venuto volentieri e in realtà io veramente poco più che un saluto e c'è un errore sulla locandina io non sono qui in quanto census anche io non sono del census mi chiamo De Rita ma non sono del census ma forse ho sparato io a non dare l'interazione giusta in quanto rappresentante un'associazione di cui mio papà è un bel presidente che si chiama Essere Qui che è un'associazione nata apposta per lavorare all'interno della chiesa aumentare diciamo l'autocoscienza all'interno della chiesa di quello che si muove all'interno della chiesa questa associazione è ancora abbastanza ristretta ma tipo Ligliana Cavani la vicepresidente c'è dentro Andrea Riccardi Romano Prodi a proposito delle scelte fatte in quegli anni di cui parlava il governatore giusto o sbagliate che fossero e via dicendo e altri personaggi così io faccio un po' il fattorino quello che pedala su questi temi qua e che cos'è questo osservatorio che cos'è questa associazione riprende anche un po' quello che diceva il Papa mi sembra all'inizio dell'anno 2022 di i pastori e il grece i pastori dice il Papa devono imparare a guidare il grece perché è il loro compito devono imparare anche a seguirlo perché a volte il grece conosce dei pastori che il pastore non conosce ma deve anche imparare a starci in mezzo a sentir l'odore il Papa c'è sempre queste trovate meravigliose e sentire l'odore di essere qui vuol dire stare in mezzo al grece cioè cercare di capire il grece anche su questi temi qua la prima constatazione che ne abbiamo fatto appunto che cosa può fare la Chiesa su questi temi epocali questi temi enormi a volte sembra anche un po' cioè più che pregare che possiamo fare che 40 gradi a giugno che si può fare davanti al fenomeno di questo tipo c'è una sorta di impotenza e però invece è importante trovare anche delle soluzioni star dentro ai problemi e sentire l'odore anche dei problemi la prima constatazione è che e questo si fatica sempre un po' a capirlo forse che non c'è più una società cristiana per questo anche questa associazione e io prima la mia generazione è stata abituata a vivere in una società che era cristiana grosso modo che quello che valeva per noi cristiani valeva un po' per tutti poi qualcuno lo disattendeva qualcuno meno ma era un punto di riferimento per l'intera società questo non è più vero c'è stato un cambiamento epocale io credo che col covid poi l'abbiamo anche visto nel testo nel libro che abbiamo fatto col covid c'è stata proprio anche una frattura tra chiesa e società e quei famosi decreti come si chiamavano di PCM che impedivano di dire la mesa si è sentito proprio che qualcosa è cambiato quasi che la chiesa non contasse più non avesse perso la catena di trasmissione con la società e noi dobbiamo uscire da questa situazione questo è quello che si è come in chiesa dobbiamo proprio cercare di uscire da questa situazione poi arriviamo a riprendere i temi di oggi e cioè siamo davanti preoccupato come chiesa siamo davanti a questo dilemma e che in fondo è sbagliato e cioè a chi parliamo quando il Papa oggi l'ho sentito e erano i temi anche della conferenza di prima io veramente lancio qualche spunto dice gli italiani devono fare più figli a chi parla a chi sta parlando agli italiani nel loro insieme e che gli danno retta come morde quella società intera fare più figli è una cosa che significa e non significa rimane vago oppure parla soltanto ai devoti quelli che ancora sono una minoranza riconosciamola e riconoscono che c'è la dottrina che c'è la volontà di Dio di fare figli perché anche quello i papà e i mamma ne hanno fatti otto e poi appunto noi siamo soltanto 14 abbiamo fatto 14 nipoti quindi siamo sotto la soglia che diceva prima plasticamente rende la cosa in qualche modo c'era Dio vuole che amatevi e procreatevi e riproducetevi scusate amatevi e riproducete ecco e questo è il punto a chi stiamo parlando quando noi diciamo bisogna salvaguardare il creato bisogna fare qualcosa per il bene comune bisogna fare più figli bisogna rispettare la natura bisogna rispettare il popolo bisogna accogliere l'immigrato quando come chiesa lo diciamo a chi stiamo parlando ai nostri cioè al greggio che ci è rimasto in chiesa al greggio in quanto tale è troppo poco perché se parliamo ai devoti ma è troppo vasto e generico se parliamo all'insieme e qui ci stiamo perdendo io l'impressione che ho come comunità ecclesiastica di cui sono fiero di far parte quando sento parlare male della chiesa dai miei amici tutti mi guardano dicendo adesso si arrabbia eh sì a volte mi arrabbia perché è talmente gratuito certe volte ecco la domanda è questa a chi parliamo a chi dobbiamo parlare nel libro noi abbiamo fatto come prima uscita un libro come associazione essere qui un libro sulla situazione della chiesa durante la pandemia e l'abbiamo intitulato un po' provocatoriamente qualcuno non è stato contento il greggio smarrito cioè non c'è più la pecorella che abbiamo smarrito ma c'era l'intero greggio che abbiamo smarrito e c'è rimasta una pecorella in sacrestia e il devoto ma il Papa questo non è che lo dico io il Papa è il primo a dirlo non ha carezzato la pecorella andate a cercare i 99 che si sono persi e in questo spazio rischiamo di perderci un po' bisogna concentrarci un pochettino di più perché in questo libro che noi abbiamo fatto tra le tante critiche che poi erano anche abbastanza prevedibili quando chiediamo agli italiani nel loro insieme ma secondo me la chiesa che cosa dovrebbe fare preoccuparsi degli ultimi deve preoccuparsi dei suoi deve pensare al mondo intero o deve essere profetica abbiamo buttato lì una frase così un po' deve essere profetica ecco è uscito fuori che la maggior parte degli italiani si aspetta dalla chiesa una parola profetica che poi in un questionario non è che uno può specificare quale profeta minore o maggiore è una suggestione ma questo secondo me è importantissimo noi dobbiamo trovare quella componente italiana che non è né il devoto né la società né il suo insieme che ci chiede siate profetici secondo me è quello che dice spiegami che non finisce tutto qua che c'è qualcosa oltre oltre la mia vita oltre il mondo di oggi oltre la materialità oltre i soldi è questa aspettativa c'è una grande componente in società che si accontenta di quello che c'è oggi e non fanno figli non accolgono il povero non distribuiscono perché gli basta quello che c'è e poi c'è ancora un 55% ma forse di più che vuole sentire che cosa c'è oltre ma ancora nessuno gliel'ha spiegato ha un'aspettativa noi ci dobbiamo riferire a questo per questo non servono parole generiche no perché se no ci si perde per carità ognuno fa il suo mestiere quindi anche giustamente chi deve fare le omelie fa un discorso chi deve fare i documenti ecclesiali fa un discorso un po' a tutti è generico ma quel fate più figli detto così rischia di non produrre l'effetto dovuto probabilmente lui l'ha fatto sicuramente l'ha fatto nel modo migliore io adesso prendo soltanto un esempio no non basta quello bisogna capire quelle coppie che si aspettano dalla parola del Papa una parola guardate che c'è qualcosa che va oltre la vostra coppia c'è una profezia che è quello che voi potete diventare voi potete andare oltre quello che siete ecco questo è secondo me la cosa ed è anche quello che dobbiamo dire quando parliamo del creato ma per far questo serve stare dentro sentire l'odore perché sono tantissime sfumature diverse che vanno capite bisogna stare dentro i processi alla chiesa italiana forse in questo momento manca questa capacità di stare proprio dentro a tutti quanti i processi e capire che cosa sta succedendo e sapere qual è la parola giusta da dire a quella coppia appena sposata dice ma lo faccio o non lo faccio il bambino lo faccio o non lo faccio perché lo devo fare è un rischio è una perdita perché poi si perde di sonno prima di tutto di beni di vita soprattutto le donne ho visto mia moglie come è cambiata il primo il secondo il terzo figlio e lì come diceva una ragazza adesso mi ritrovo no è così è così però c'è qualcosa c'è qualcosa d'altro che va oltre è così ma perché io devo salvaguardare il creato no perché questa parte dobbiamo imparare a parlare della salvezza dell'anima perché se tu lo fai in qualche modo contribuisce alla salvezza della tua anima a creare la tua vita oltraterrena che ti aspetta ad arricchire a depositare un tesoro in cielo che lo stai depositando che pensi di depositare qui dove la ruggine e la tignola te lo divorano no ecco questo dobbiamo rincominciare a dire non parlare solo al devoto non parlare a tutti quanti insieme star dentro i processi e capire di volta in volta qual è la parola giusta da dire perché se no la salvaguardia ha creato un tema talmente vasto talmente impensabile la più grande sfida che l'umanità abbia mai dovuto incontrare a confronto il rischio nucleare è una parzelletta se è vero quello che ci dicono i scienziati poi può essere che dopo domani ne dica pure non so nel Sara ci sono sbagliati però se è vero quello che ci stanno dicendo siamo a rischio più che nell'era atomica qualche bomba forse l'avremmo potuta sopportare una decina di bombe come umanità questo no ma è un processo di lunghissimo periodo e tutto quanto va capito che cosa si muove nel cuore delle persone e dare risposta al cuore delle persone io penso che uno di questi modi e stiamo facendo un osservatorio per questo è proprio di prendere il concetto di comunità dentro la comunità ognuno fa del suo meglio per costruire una social migliore perché sente l'esigenza interiore di farlo non perché moralmente gli sembra giusto noi dobbiamo ritrovare questa esigenza interiore questa voglia di salvare l'anima proprio di ciascuno di andare oltre di ciascuno e poter parlare a queste persone faccio soltanto questo esempio per dire come a volte il parlare laico non basta parlare laico è dire bisogna fare figli perché figli è giusto non scuote le persone i miei figli che ora hanno 30 anni che ogni tanto gli dico beh io arrivo al nonno eh sì ti risponderanno sempre eh sì l'asilo il lavoro il mutuo la casa la seconda casa la seconda macchina ma io non ce l'avevo tutta questa roba quando l'ho fatto i figli io ce l'ho solo voglia di fare e questo loro faticano a capirle quello che noi dobbiamo trasmettere anche sui temi della salvaguardia creato è la stessa cosa ora si parla molto della comunità energetica no? va per la maggiore no? cioè non posso sottratto ma beh alla fine sta fatto della comunità energetica è semplicemente io metto il tetto mio io metto il tetto suo il supermercato mette il parcheggio la fabbrica mette i pannelli e poi condividiamo la scuola e già è complicatissimo così già è complicato no? serve la comunione di intenti noi vogliamo essere una comunità che non consuma niente è lì che noi dobbiamo imparare a stare è dentro quel greggio e sentire quell'odore del greggio che noi dobbiamo imparare a stare quindi sarà un lavoro di comunità di come cresce la comunità di come si forma la comunità e di quali sono quelle fane e sete di spirito e di comunione vera che la comunità richiede e cercare di rispondere ma non in modo generico bisogna sapere di volta in volta bisogna starci dentro ricominciare a stare dentro i processi ed è un po' quello che noi cerchiamo di fare con questo osservatorio che faremo anche con Claudio Gess nel Lazio perché è giusto che questa cosa ricominci che partono proprio dal Lazio che è il centro della chiesa italiana e della cristianità in quanto tale perché è proprio questa esigenza di ritrovare il contatto con quella società che non è né dentro né fuori ma pascola un po' fuori nel nostro giardino non è scappata via e piano piano bisogna ricominciare a capirla e a starci dentro questo è un po' il lavoro che ne facciamo e penso che questo sia importantissimo anche per tutti questi temi così vasti così grandi se non ridiamo anima a tutto ciò e non facciamo credere che è lì l'anima del singolo dell'individuo perché sennò è veramente una vita che finisce tutta qua e io consumo c'è mi spengo mangio divoro perché poi tanto il dopo non c'è no il dopo come nella parabola c'è e ti chiederanno e quel povero che sta là in fondo non gli ha dato niente e ora rimani qui per l'eternità all'inferno e lui sarà tra le braccia da bravo io non so se questo è ancora accettabile però una grandiosità di questo tipo non dobbiamo imparare a ritirarla fuori beh sono stato conciso ho detto poche cose anche grazie volevo dire questo seppur bellissimamente che un po' richiami quello del pensiero del teologo di Romano Guardini sul recupero dello spirito religioso cioè oggi manca proprio il sentimento lo spirito religioso essenzialmente è questo e questo poi si ricollega al problema di carenza di produttività carenza di politici insomma tutto il re quindi vi veramente manca ma parzialmente c'è un enorme fame c'è fame però non si riega con questa contraddizione penso di quello che due parole su questo perché c'è qui c'è da un lato c'è una grande fame però non si riesce a meciare diciamo questa ricerca con il bisogno è perché probabilmente c'è un linguaggio antico che non sfama le esigenze di spirito di oggi vanno capite per questo che noi facciamo l'osservatorio vanno capite faccio l'esempio che si fa sempre il ruolo delle donne c'è il ruolo delle donne bellissimo 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 ma poi concretamente questo come si esce per carità io tutte le donne che conosco nessuna attenzione torna su questo ma poi non si dipana non si e questo è il pubblico dell'osservatorio c'è questa fame c'è questo rimetterla al centro e proprio è provvidenza perché l'altro giorno io sono amante di audiolibri in macchina sentivo i fioretti non i fioretti di San Francesco e uno proprio diceva di Santa Chiara il Papa va da Santa Chiara e chiede a Santa Chiara di benedire il Papa il pane e Santa Chiara dice no Santità non lo farò non posso farlo per umiltà non posso farlo allora perché la tua umiltà si è rispettata te lo chiedo per santa obbedienza e allora è chiaro davanti al Papa benedice il pane e sul pane si forma la croce di Cristo no è commuoventissimo però poi alla fine oltre questo discorso così in ruolo della mano non si capisce cosa può essere qual è quel frutto che hai in grado di dare bisogna stare dentro ai processi capirli dipanarli parlarne non in termini assoluti ma in termini reali stare dentro al grecce questo è e per questo l'associazione si chiama essere qui grazie allora grazie al dottor Terriza grazie a tutti gli intervenuti per la vastenza anche e per chi lo volesse ci sono le reliquie esposte all'interno della chiesa di San Francesco abbiamo il dottor Fabi che può anche illustrare di San Francesco perché è passato qui San Francesco grazie a tutti ancora è stato l'ultimo grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri